Siamo a Lecco, terzo presidio per Grazia Mennella che oggi ha appena avuto un incontro con la direzione, proprio per discutere le problematiche da essere sollevati. Grazia, hai appena avuto questo incontro con la direzione, ci fai un resoconto di come è andata, di come vi siete lasciati? È venuto il mio avvocato, abbiamo consegnato delle memorie che sono state illustrate brevemente dall'avvocato, dove ovviamente si replica le due contestazioni di addebito che mi vengono fatte e poi siamo al buon cuore dell'azienda, cosa vorrà fare? È stato un colloquio tranquillo, è stata soltanto un'esposizione dei fatti, basta, c'è più di tanto. Il prossimo step secondo te quando sarà? Hanno 180 giorni per decidere le mie sorti e quindi niente. Io propongo a tutti di fare un sanità tour alla presenza dei nostri portavoci nelle istituzioni in modo da cercare di conquistare la buona sanità in tutte le strutture, non soltanto in questa e quindi di pretendere le regole dappertutto. Potrebbe essere un'ottima iniziativa per coinvolgere anche il cittadino e per fargli capire come funziona il Movimento 5 Stelle.